Dalle ultime analisi sono emersi dei campanelli di allarme e potrebbe presentarsi il rischio di una ricoparsa della malattia. Per evitare che questo possa accadere mi è stato consigliato di intraprendere un percorso terapeutico che possa eliminare sul nascere questa ipotesi negativa. Questa volta per usare un giargo calcistico non entrerò in scivolata e in tecle come due anni e mezzo su un avversario lanciato ma giocherò di anticipo per non farlo partire. Si vede che questa malattia è molto coraggiosa per avere ancora voglia di tornare ad affrontare uno come me. Ah vabbè, io sono qua, se non gli è bastata la prima lezione gli daremo un'altra. Perché questa è la vita, il percorso della vita che è fatto di discese, di salite, di rettilinee, di curve. E a volte si incontrano anche delle buche improvvise. Si può cadere ma ci si deve trovare sempre la forza per rialzarsi e per riprendere il cammino. All'inizio della prossima settimana mi dovrò assentare e sarò ricoverato al Santo Orsola nel programma dipartimentale Terapie Cellulari Avanzate diretto dalla dottoressa Francesca Bonifazi. Vi ringrazio ancora tutti, ci vediamo presto e sempre Forza Bologna. Dai!